Musica Covid ex infermiere morto, ora si apre un'inchiesta e il sindacato chiede che si faccia chiarezza sul caso dell'ex dipendente del Cotugno, ucciso dal virus nonostante la doppia dose di vaccino. A Dischia, muore 82enne non vaccinato, era ospite di una casa di riposo. Follia social, 17enne in auto con falsa sirena a tutta velocità, hanno percosso il centro del comune napoletano di Cardito, superando le altre auto grazie al suono delle sirene utilizzate dalle forze dell'ordine. Il video su TikTok è diventato virale, nei guai un minorenne diafragola. Estate della ripartenza, il bilancio dei balneari a Salerno, positivi i mesi di luglio e agosto che hanno visto anche il ritorno dei turisti. Al microfono di 8 Channel anche la soddisfazione dei visitatori che stanno affollando ancora le coste cittadine. Comunale a Napoli continua la fuga da Dema, si registra un altro addio a Palazzo San Giacomo, lascia l'aggiunta anche l'assessore Gaudini che ha deciso di candidarsi con Bassolino. Intanto a Ravello Saviano lancia stoccati a De Luca, deve essere il presidente di tutti. Ariano, il Covid uccide paziente 77enne di Nusco, la donna era ricoverata in ospedale, intanto brusca frenata dei vaccini, flop del camper dell'Asla a Montevergine, semideserto anche l'open day di oggi. Appello ai vacanzieri, tornate dal mare e vaccinatevi. Benevento, risse e roghi, torna l'allarme violenza, preoccupa il lungo elenco di auto incendiate, vittime soprattutto le donne. Ed ora tornano le risse nei luoghi della Movida, l'ultima nei pressi della prefettura, la rabbia dei residenti, non si può vivere così. E questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In primo piano il Covid in Campania, ancora alti i contagi, il tasso di incidenza continua a salire e sono stabili però i ricoveri in terapia intensiva. Fa discutere la morte dell'infermiere napoletano in Sardegna, in pensione Gabriele Napolitano, che è morto a 63 anni, nonostante le due dosi di vaccino. Il sindacato degli infermieri chiede chiarezza. Vediamo. Il coronavirus continua ad uccidere in Campania. È morto nelle scorse ore un 82enne non vaccinato ad Eschia. L'anziano era ospite di una casa di riposo a Casa Micciola ed è deceduto nell'ospedale Rizzoli di L'Acquameno. Originario di Monte di Procida, l'82enne era ospitato da due mesi nella struttura ed era stato ricoverato in ospedale per altre patologie, ma non era vaccinato. Sono ora quattro le persone decedute sull'isola per il coronavirus in una sola settimana. Dopo un lungo periodo di assenza di contagi, ad Ischia da fine luglio si è registrata una impennata dei positivi, arrivati fino a 300, per il 70% non vaccinati e per la maggior parte giovani sotto i 30 anni. Solo poche ore prima un altro decesso. È morto in Sardegna nell'ospedale di Sassari un infermiere del Cotugno in pensione, Gabriele Napolitano, che aveva ricevuto la doppia dose di Pfizer solo sei mesi prima. Il nostro cordoglio come ordine professionale va sicuramente al collega, alla famiglia e naturalmente questi sono episodi che ci fanno pensare ancora di più quanto sia importante non lasciare alcun dettaglio nella lotta a questa pandemia. Intanto Signoriello invita i colleghi Novax a vaccinarsi tutti per evitare rischi in corsia. La nostra professione è sicuramente rischiosa, però se mettiamo in pratica tutte le procedure di sicurezza che prevedono i normali protocolli per la contenzione della diffusione della malattia, sicuramente le probabilità si abbassano tantissimo. Due giovani incensurate di 18 e 19 anni sono rimasti feriti in un agguato che si è verificato nella notte a Rione Sanità, che non sono in pericolo di vita. È successo in via Arena. Quando gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli sono arrivati a terra, c'erano numerosi bossoli e tracce di sangue. I feriti erano già stati trasportati al vicino ospedale dei Pellegrini. I due giovani saranno ascoltati appena possibile dagli investigatori che al momento non escludono nessuna pista per fare luce sul l'agguato. Sul luogo della sparatoria la sezione scientifica della Polizia di Stato ha rinvenuto e rifertato otto bossoli calibro 9x21 e tracce ematiche. Le indagini sono affidate al commissariato San Carlo Arena della Polizia di Stato. A tutta velocità hanno percorso il centro del comune napoletano di Cardito superando le altre auto grazie al suono delle sirene utilizzate dalle forze dell'ordine. Il video messo sul TikTok è diventato virale ma finiscono nei guai un minorenne e alcuni ragazzi di Afragola. Vediamo. A tutta velocità a bordo di un'auto percorrono il centro di un comune del napoletano Cardito superano le altre auto e in sottofondo c'è il suono delle sirene solitamente utilizzate dalle forze dell'ordine. Questo è il contenuto di un video postato sui social da un gruppo di ragazzi e che è costato una denuncia a piede libero a un 17enne incensurato di Afragola. I carabinieri della stazione di Crispano lo hanno denunciato. I militari hanno acquisito e visionato il video postato dal ragazzo sui social. Nel video alcuni giovani a bordo di quest'auto percorrono le strade a tutta velocità, superano le altre auto con i conducenti che accostano per facilitare il sorpasso. In sottofondo il suono delle sirene con tanto di didascalia che spiega cosa accade quando si collega il bluetooth allo stereo dell'auto e si trasmette la sirena dei carabinieri. Peccato che i carabinieri, quelli veri, abbiano acquisito il video ed identificato il minore che è stato denunciato e che ora dovrà affrontare un processo. Sono in corso le indagini. Il filmato è stato pubblicato anche dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha allertato le autorità competenti per risalire agli altri responsabili. A Torre del Greco un uomo sui 50 anni, probabilmente con intento suicida, è saltato sui binari nei pressi della fermata del Miglio d'Oro mentre era in transito il treno delle 8.26 proveniente da Sorrento e diretto a Napoli. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto. La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ercolano e Torre del Greco è stata interrotta per alcune ore ed è stato istituito un servizio sostitutivo di bus. Andiamo a Salerno. È buono il bilancio dei balneari su questa estate, bene i mesi di luglio e agosto che hanno visto anche il ritorno dei turisti. Ai nostri microfoni la soddisfazione anche dei visitatori. Vediamo. È un bilancio positivo e che fa ancora ben sperare quello dei gestori dei lì di Salernitani che stanno registrando nei mesi di luglio e agosto ottime presenze nelle loro strutture. Sono tornati anche i turisti stranieri. Nonostante il covid abbiamo lavorato bene nei mesi di agosto in particolare, luglio e agosto, perché si è mossa un po' quella che era il turismo, al di fuori quello di prossimità, anche quello estero che appunto è mancato l'anno scorso. Quest'anno abbiamo avuto delle buone presenze sia all'interno delle strutture ricettive salernitane che si sono appoggiate alla nostra per quanto concerne appunto gli stranieri che venivano a trovarci. Quindi potrei dire che tutto sommato questa stagione, questi due mesi finali sono andati bene. La qualità del mare, spesso inquinato, non ha fermato i bagnanti. Un po' di mare, tanto sole, tanto caldo, molto più caldo del solito secondo me. Pochi turisti stranieri ovviamente purtroppo, però tantissimi italiani al sud, in Puglia, Calabria. Noi abbiamo fatto tutto il giro, quindi anche qui. Noi veniamo da fuori, veniamo da Bergamo, siamo a Pompei e questo è il primo giorno di mare. Però siamo già venuti l'anno scorso e ci siamo ritornati. Pochi giorni però, non è che si può fare tanto. La politica dopo le polemiche e le dimissioni di Scurati, Roberto Saviano arriva a Ravello e lancia stoccate al governatore De Luca. Devi essere il presidente di tutti. Intanto a Napoli continuano gli addi a Dema. Vediamo. Trasformisti, transfughi, esperti nel salto della quaglia, da destra a sinistra. È partita la corsa alla candidatura e tra dieci giorni la partita per le comunali si dovrà chiudere. Gli ultimi ad abbandonare la nave di Palazzo San Giacomo sono gli ex Verdi, oggi in quota davvero. Pronto a candidarsi con Antonio Bassolino, Marco Gaudini, nominato il 12 gennaio scorso assessore ai trasporti e alla mobilità da De Magistris. Gaudini dovrebbe protocollare le dimissioni oggi. Prima di Gaudini aveva lasciato la barca Raffaele del Giudice, pronto a candidarsi con Manfredi. Così come Roberta Gaeta, ex assessore al welfare, sarà candidato in coalizione con Manfredi anche Ciro Borriello, assessore allo sport, che in settimana firmerà con il Movimento 5 Stelle. La campagna acquisti di Maresca ha invece visto negli ultimi giorni un doppio colpo di mercato. L'ex assessore Dema, Daniela Villani, e l'ex consigliere comunale molto vicino a Clemente, Ciro Langella. Intanto si passano al setaccio gli elenchi dei nomi che andranno a comporre le liste del 3-4 ottobre. Si punta ad impedire la candidatura di condannati e indagati. Anche i deluchiani sono al lavoro per chiudere le loro liste. Contro il governatore si scaglia di nuovo l'autore di Gomorra, Roberto Saviano. Quello che è successo a Ravello è terribile. Così l'autore, nel corso dell'evento organizzato ai Giardini del Monsignore a Ravello, il riferimento è al veto sulla presenza dello scrittore al festival, imposto dal governatore Vincenzo De Luca lo scorso mese di giugno, quando in seguito alle polemiche il presidente Antonio Scurati aveva presentato le dimissioni a pochi giorni dalla nomina. Quando diventi sindaco o presidente, sei il presidente di tutti, anche di chi non ti ha votato, anche di chi non ti supporta e non ti sopporta, ha dichiarato lo scrittore. A Benevento, nuova giornata dedicata alla vaccinazione della fascia a 12-18 anni. Tanti i genitori in fila presso l'hub dell'ex caserma Pepicelli, così speriamo che quest'anno possano rientrare in classe, in presenza. Vediamo. Circa 700 le persone prenotate anche oggi ed è ancora una giornata dedicata agli Open Day, ma questa volta solo per la fascia a 12-18 anni. Ed erano tanti i giovani, ma soprattutto i genitori, che avevano accompagnato i figli questa mattina presso l'hub dell'ex caserma Pepicelli a Benevento per aderire alla campagna di immunizzazione. Ed in vista del nuovo anno scolastico, la speranza è che la vaccinazione possa scongiurare lezioni in dad, ma che si ritorni presto in aula. Sperando che possa rientrare a scuola regolarmente. Credo fermamente nei vaccini. E quindi per me è una tutela sia per lui che per la società. Si spera che possa garantire continuità quest'anno scolastico? Magari, perché diciamo che con la dad non è andata proprio benissimo. Tante inoltre le persone in attesa per ricevere la seconda dose di vaccino. Posso fare la seconda dose? La prima l'ho fatta a giugno, non valeva la pena aspettare. La seconda, il ricamo? La prima dose l'ho fatta già molto tempo fa. Ma c'è anche chi ammette di essere stato invogliato soprattutto dalla necessità del Green Pass. Per il Green Pass? Se no non si può fare nulla. No, convinto e anche per il Green Pass, ma ero convintissimo assolutamente. Intanto, nelle ultime 24 ore in ospedale si registra un nuovo ricovero nell'area Covid, portando a nove il dato dei pazienti in degenza nei reparti del Sampio dedicati all'emergenza coronavirus. In Irpinia adesso somministrazioni di vaccino in calo. Non è andata molto bene per il camper nella Movida e a Montevergine. E intanto muore anche un altro anziano di 77 anni di Nusco non vaccinato. Vediamo. Covid in Irpinia si conta un'altra vittima. Non ce l'ha fatta una 77enne di Nusco ricoverata al Frangipane. La donna non era vaccinata. E aumentano i ricoveri al Moscati di Avellino, un dato in linea con la crescita dei contagi. Complici anche i ritorni dalle vacanze, i numeri li evitano. Sono otto le persone ricoverate alla città ospedaliera che diventano tredici, aggiungendo quelle di Ariano. Solo 266 le dosi di vaccino inoculate nelle ultime 24 ore. Scarsa l'adesione al camper della salute che ieri ha fatto tappa all'esterno del santuario di Montevergine. E anche stamattina al palazzetto pochissime persone per l'ennesimo open day. Un clima piuttosto vacanziero. Speriamo che le persone almeno capiscano che è importante vaccinarsi. Se vogliono tornare dal mare, benvenga. Noi siamo disponibili in orario di apertura. Fino a quando abbiamo le dosi disponibili non ci sono problemi. Cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti. Intanto riaprono le fabbriche con l'obbligo del Green Pass, una misura accolta favorevolmente dalla Fismic. Riteniamo che debba essere non solo un fatto obbligatorio ma anche di premialità. Noi abbiamo oltre il 90% in Irpinia di lavoratori vaccinati con il ciclo completo della seconda dose. C'è forse una minoranza del 7-8% che per motivi vari ha rifiutato il vaccino. Questo elemento discriminante fa correre il rischio alla maggioranza dei lavoratori di perdere il servizio mensa. A Salerno adesso un piano per garantire il trasporto degli studenti in sicurezza. Confermarlo è Gerardo Arpino, segretario generale della Filt-CGE. Le vediamo. La ripresa in presenza della scuola passa anche per l'organizzazione del trasporto pubblico per gli studenti. Anche in questo caso la parola d'ordine deve essere sicurezza a Salerno nei prossimi giorni. Le sigle sindacali incontreranno il prefetto proprio per mettere in campo un piano che consenta di ripartire senza problemi. Già nei mesi scorsi si è sancito una forbice di differenziazione degli ingressi contingentati all'interno delle scuole. Si è sancito quali sono quei punti più nevralgici all'interno dei quali arrivano gli studenti. C'è la necessità importante di sorvegliare quei punti nevralgici di interscambio laddove ci può essere un maggiore afflusso. Al vaglio anche il possibile utilizzo del Green Pass, già obbligatorio per le tratte a lunga percorrenza. Noi non abbiamo nessun pregiudizio. L'unica cosa che riteniamo non giusta è che è laddove questo Green Pass venga usato per penalizzare o per contestare i lavoratori. Ma per i sindacati è necessario aumentare anche la sicurezza di chi lavora nei giorni scorsi. Un autista di un bus è stato aggredito da un 58enne che è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Anche all'interno del nostro contratto nazionale, dove si è più volte ribadito la necessità di chiedere la chiusura del posto guida, quindi un posto guida blindato, videosorveglianza attiva H24 all'interno degli autobus, così da garantire una sicurezza maggiore. A Benevento adesso torna l'allarme movida violenta. C'è stato un altro episodio ieri sera, pochi passi dalla prefettura e anche un'altra auto incendiata. Vediamo. Il comitato di quartiere e centro storico di Benevento torna a chiedere alle istituzioni un controllo ancora maggiore di tutta l'area del centro. Dopo un nuovo episodio di violenza ha registrato l'altra notte quando un gruppo di ragazzi, se ne sono date di santa ragione, mi converto primo. Il problema va risolto con un maggiore controllo, come già abbiamo richiesto, in parte ottenuto da parte della prefettura. Abbiamo notato il transito di agenti in borghese in divisa a piedi, riteniamo però che il controllo debba essere più capillare e soprattutto riguardare l'intero centro storico. Ed ancora ieri sera problemi per un residente che non è riuscito a passare con la sua auto nei vicoli. Ieri sera un nostro membro nel rientrare a casa a Vicomberto I è stato aggredito, doveva passare con l'autovettura, è stato aggredito da alcuni avventori che non volevano spostarti. Non solo movì da violenta, ma nel samnio continuano anche gli incendi delle auto. L'ultimo la scorsa notte in Miale dell'Università Benevento, dove qualcuno ha cercato di appiccare le fiamme agli pneumatici di una Fiat appunto lasciata in sosta. Per fortuna alcuni residenti hanno notato il principio d'incendio ed hanno arrestato i vigili del fuoco e i carabinieri. Si tratta del settimo episodio registrato in appena 15 giorni in provincia di Benevento. In ben cinque casi nel mirino sono finite auto di donne. A Mercogliano in Irpinia sono stati attivati finalmente i parcometri in città per il sindaco D'Alessio, così mettiamo ordine nella mobilità e aspettiamo i turisti. Vediamo. Rivoluzione della sosta a Mercogliano che dopo dieci anni attiva finalmente i parcometri in città. L'obiettivo è rimpinguare le asfittiche casse comunali e mettere ordine nella mobilità. Le tariffe variano da 0,70 all'ora per quanto riguarda la zona alta di Mercogliano e 1 euro per quanto riguarda la zona di Torrette. Per quanto riguarda il primo quarto d'ora abbiamo la gratuità assoluta e in più abbiamo due tariffe minime. 0,20 per Mercogliano alta in modo che si parcheggerà oltre per un quarto d'ora e gli ulteriori 30 minuti che riguardano i 20 minuti per cui 45 minuti sono consentiti con 20 centesimi. E nella zona invece bassa, cosiddetta bassa ma zona di Torrette, si parcheggerà con 50 centesimi 45 minuti. Garantiti anche ampi spazi di strisce bianche. Abbiamo 356 stalli su 586 a pagamento, quindi 356 stalli che sono anche aree vastissime. Il problema è che il cittadino vuole il parcheggio sotto casa, questo non potrà averlo. Ma l'amministrazione comunale lavora anche a regolamentare il flusso di macchine al santuario di Montevergine, accogliere i turisti senza creare più ingorghi. C'è una città che gestisce i parcheggi a Montevergine, che dovrà anche gestire il piano traffico, evitare di ingorghi. Stiamo programmando tutto quello che è necessario per riportare il turismo a Montevergine, ma soprattutto accontentare i tanti turisti che già frequentano la nostra città. A Salerno adesso la chiusura dello storico ristorante Vicolo della Neve ha fatto scattare molte polemiche. Al via le trattative per la riapertura con un nuovo ciclo. Lo storico gestore Don Matteo promette, vigileremo, verrà rispettata la tradizione. Sentiamo. La chiusura a Salerno di un altro storico locale che ha segnato intere generazioni il Vicolo della Neve ha suscitato un'ondata emotiva di dispiacere e polemiche tra i salernitani. C'è la paura che si possa perdere la memoria di questi posti diversi, gli esercenti, che in questi giorni si sono fatti avanti per rilevare l'attività portata avanti per anni da Matteo Bonavita. Don Matteo che promette una continuità che non andrà persa. È una storia. Qui hanno passato tutti. Tutti hanno passato per il Vicolo della Neve. Oramai è una questione che tutto il mondo conosce il Vicolo della Neve. Purtroppo quello che adesso stiamo facendo è di darlo in cessione a una persona che è competente come sono stato io competente e di portarlo avanti. Questo è tutto. Quello che facevamo prima deve restare pure adesso. Anche se noi non è che li abbandoniamo, saremo sempre sul fronte di partenza per aiutarli e per farci che non finisce la storia di Salerno. Tra gli imprenditori interessati anche Enzo Bove, volto storico della Movida e titolare di diverse attività di ristorazione in città. Noi abbiamo avuto più di un approccio con Don Matteo. Questa trattativa sta per essere riaperta e quindi una buona notizia per chi è legato alla tradizione. posso rassicurare tutti i salernitani che il baccalà reganato, la parmigiana, le polpette saranno tutti riproposti nel nuovo menù laddove la trattativa dovesse prendere questa volta una piega positiva. Boom di visitatori al Teatro Romano di Benevento che si prepara ad ospitare numerose serate della 42esima edizione del Festival Città Spettacolo in programma da domani sera. È boom di presenze al Teatro Romano di Benevento che si conferma una delle scelte preferite dei visitatori e in cassa numeri da record. In questo periodo di luglio e agosto abbiamo avuto visitatori anche dall'estero, abbiamo avuto visitatori dal nord, anzi diciamo dal nord al sud, dai lombardi ai toscani ai laziali fino ai pugliesi, abbiamo avuto spagnoli, tedeschi, qualche francese. Conserviamo i numeri, l'anno scorso nel mese di agosto avevamo 2599 visitatori, a ieri del 2021 2592 visitatori. E l'area archeologica si prepara a brillare ospitando le numerose serate promosse per la 42esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo che prenderà il via domani. Il Teatro Romano, grazie ad un accordo di valorizzazione con il Comune di Benevento, sarà protagonista insieme ad altri spazi della città di questa rassegna delle novità. Uno, una produzione tutta beneventare. Il Noci di Benevento, scritto da Balducci nell'Ottocento, è vivace sotto aspetto musicale. Il tema riguarda questa magia beneventana che molto si avvicina tra l'altro al Teatro Romano. Il 26 avremo Terre del balletto di Carmen Castiella che è un'altra opera che riguarda, che ci riguarda, che può riguardare la nostra cultura. Avremo i pomeriggi al teatro con gruppi importanti, dai Collage a Eugelio Bennato, qualche sterato con Gino Riviecio l'ultima sera e poi abbiamo la notte al teatro che sarà i 28 notte con a mezzanotte e mezza il nostro straordinario Peppe Barra. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale. In regia Aldo Fenizia, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.